Noi c'eravamo oggi in tribunale a testa alta. Il commissario Badioli, partoffesa, era assente. È il commento di Umberto Carriera, fondatore del movimento IoApro a processo per diffamazione. I fatti risalgono al gennaio 2021, quando insieme alla compagna, a processo insieme a lui, filmò i poliziotti col telefonino e pubblicò il video sui social. Le forze dell'ordine erano entrate nel suo ristorante di Monbaroccio. Carriera aveva aperto il locale nonostante i divieti imposti dalle norme anti-covid. Il commissario ora chiede un risarcimento di 21 mila euro e oggi, nell'udienza interlocutoria, si sono costituiti parte civile anche tre sindacati di polizia ammessi dal giudice che chiedono la stessa cifra, valutata sulla base dei criteri dell'osservatorio di Milano. Non ho offeso nessuno, ha dichiarato Carriera, ho ripreso per testimoniare, a mio parere, attimi di ordinaria follia. Il primo atto, quello che ci tengo a ribadire è che come sempre da parte mia c'è, c'è stato il massimo rispetto per le forze dell'ordine. Credo che quel 15 gennaio 2021 abbiano esagerato. Quattro posti di blocco per arrivare al ristorante La Grande Bellezza, venti agenti che fanno irruzione a cena finita per un ristorante vuoto. Mi sembra un'esagerazione e quindi ho ritenuto opportuno filmare quello che è accaduto. Senza dimenticare poi che lo stesso tribunale, alle nostre spalle, ha annullato le multe relative a quella cena. Quindi non è stato commesso nessun reato, che tra l'altro era una sanzione amministrativa, di 280 euro. Pubblicato il video, i cittadini, il popolo italiano, poi ha commentato quello che è accaduto. Ma io in questo non ho chiaramente alcuna responsabilità. Abbiamo messo a disposizione del pubblico ministero i nostri cellulari, ha spiegato Carriera, ed un lungo elenco di testimoni. Il prossimo 10 ottobre ci sarà il conferimento in incarico di un perito per l'estrazione forense dello smartphone dell'imputata, dispositivo che era stato utilizzato per registrare il video. L'accusa, infatti, sostiene che le immagini pubblicate siano state alterate. Da due anni a questa parte, ha aggiunto invece l'imprenditore, lotto per la dignità di milioni di italiani. Ci sarà bisogno di voi fuori dal Tribunale di Pesaro il mattino del 5 dicembre 2022, quando ci sarà una nuova udienza, ha scritto il ristoratore. Nel frattempo, continua il suo impegno anche sul fronte politico. Io apro il rinascimento, ha avuto un ottimo risultato alle amministrative. Nella vicina Cività Nova Marche abbiamo raggiunto quasi il 12% come lista. Mediamente siamo vicini al 3% in tutta Italia. Ci stiamo preparando per le regionali in Sicilia e per le prossime politiche.